Allora ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono MT e siamo nel terzo episodio della serie di Man vs. Zero Se vi state chiedendo dove sono, no, non sono nella mia stanza, sono in Puglia, sono le 8 di sera Sono sul terrazzo del nostro appartamento, una figata e tutto Vi parlerò più avanti della Puglia e di tutto quello che ho mangiato, soprattutto in Puglia Però passando ai discorsi seri, mi è sparita la bronzatura da deficiente che ho fatto nella sfida dei 50.000 passi E adesso una bronzatura normale, finalmente una vittoria per me E passando alla sfida, adesso parliamo di quella Prima di tutto, su Instagram, nelle mie stories, seguitemi lì Ho fatto un sondaggio in cui vi chiedevo che hero wad avrei dovuto fare E le opzioni erano il Bradshaw oppure il Coughland Ha vinto il Coughland di brutto e il Coughland è così in pratica Tu devi rimanere appeso alla barra 6 minuti E stando fermo, cioè non ci si può piegare, non si può fare robe strane Appeso alla barra, naturalmente, per 6 minuti di fila E ogni volta che mogli la presa e che cadi Devi fare 800 metri di corsa e 30 flessioni Ora vi dico com'è stato È stato uno schifo, è stato uno schifo Comunque è stato uno schifo L'ho finito, ma sono stato in dubbio, veramente Perché mi sono appeso all'inizio e tutto a posto, eccetera Poi la seconda volta che mi sono appeso mi è salito un magone Non lo so, avevo voglia, mamma mia, di mollare tutto, di lasciare lì Ma ho detto col c***o che mollo Non mollo assolutamente, sono andato avanti L'ho chiuso, non mi ricordo in quanto tempo Lo vedrete alla fine dell'allenamento appunto E ultima cosa che volevo dirvi a proposito di questa serie Io penso che sta serie Fatemelo sapere se vi piace qui sotto nei commenti Ditemi se vi piace quello che sto portando, questo tipo di contenuti Perché uno, mi diverto molto a spaccarmi in questa maniera Due, conto di ispirarvi seriamente nel farlo E a muovere il culo Questo è il mio obiettivo, di farvi muovere il culo E spero che vedendomi spaccarmi così ogni settimana Voi abbiate un po' la voglia di muovere il culo Quello è il mio obiettivo E tre, queste sono solo le prime puntate della serie Cioè sono ancora tutte di prova Devo ancora capire come editarle in una certa maniera Che vi possa piacere ancora di più E soprattutto questo, secondo me Questa serie è ottima Per poter fare delle collaborazioni fighe E fare con altre persone Non per forza altri youtuber Ma qualsiasi altra persona Far provare a diverse persone A iscritti A... ma cosa so A mio fratello A persone che fanno altri sport Cioè miei amici che fanno altri sport Fargli provare questo tipo di allenamenti Questi wats Hero wats E sfidarsi su queste cose Cioè secondo me può essere veramente Una gran figata dal punto di vista delle collaborazioni Sia con miei amici e persone varie Che con altri youtuber A cui potrei più avanti far provare sicuramente Dei workout del genere E metterli alla prova A me piace veramente tanto come idea Fatemelo sapere qui sotto nei commenti E detto questo Stop Adesso continuo a godermi la Puglia Semplicemente E vi lascio al video E anzi vi lascio All'allenamento più schifoso Che abbia mai fatto All'little wats più schifoso Che abbia mai fatto in assoluto Quindi spero di avervi ispirato Anche in questo video Per il momento Per questo discorso È tutto Passo e chiudo Da MT E noi ci vediamo Venerdì con il prossimo video Godetevi l'allenamento Allora abbiamo appena calcolato Che partendo dalla porta della palestra Che si trova là Devo arrivare fino a qua Fare tre giri sul perimetro largo Ovvero quasi dell'erba Di questo piazzale E ritornare alla porta della palestra E abbiamo i nostri 800 metri Allora per questa sfida Avremo bisogno di un cronometro E di un timer Il timer di 6 minuti Per contare quanto sto appeso Devo stare appeso 6 minuti in totale E il cronometro Per contare E tutto il tempo Che ci metto A impiegare la sfida Quindi questo sarà il timer Di 6 minuti E questo è il cronometro Che toccheremo E chiuderemo Solo alla fine della sfida Adesso partiamo 3 2 1 Via Ciao a tutti Sì It's ridiculous I'm spittin' this Meticulous and limitless While others out there spittin' shit Got hits up on the charts and sits I see why other artists quit Cause people don't reward your shit They love to hate but hate to live Society you swing and miss And honestly I get it Promise me you won't regret it Wastin' energy forget it Don't look back who wanna get it Bite the bullet just a bit Bite your tongue and don't say shit Make your actions hard to miss Be a legend not a myth It's obnoxious that I'm conscious Rappin' honest as promise Try to harness As an artist stay modest It's a long quest I will not quit till 10,000 people going off When I drop this I gotta make it now Swear to god I'm breakin' out Swear to god I'll take a bow Standin' stage with the crowd Cause I got it figured out I'm just honest and I'm loud Say I'm modest but I'm proud No I never had a doubt And just like a soldier I keep on movin' forward Always gettin' closer Marchin' till it's over And just like a soldier I keep on movin' forward Always gettin' closer I marchin' till it's over And just like a soldier I keep on movin' forward Always gettin' closer Marchin' till it's over Marchin' till it's over And just like a soldier I keep on movin' forward Always gettin' closer Always gettin' closer Marchin' till it's over And just like a soldier I keep on movin' forward Always gettin' closer I keep on movin' forward Always gettin' closer Always gettin' closer Always gettin' closer I marchin' till it's over 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 4, 3, 2, 1, stop Ok, perfetto Andi qua Guardate, di tutti è stato il peggiore Pensavo fosse leggero, ma ripeto Se c'è qualcosa che non ho ancora capito, ma dico di aver capito E che qua, in questi workout, non ce ne sono di leggeri Questo, giuro, è stato il peggiore, mi ha fatto schifo Basta, devo... Non so cosa faccia stasera, non riesco a fare niente Mani acqua calda e sal Mamma mia